I ragazzi innanzitutto, è il caso di dire, hanno avuto un approccio molto positivo, non solo in termini di contenuti, il fatto di poter guardare ad un'economia che non è poi semplicemente quella che si studia solo sui libri di testo, già di per sé sembrava un nuovo approccio, ma dopo proprio l'idea laboratoriale con cui i ragazzi si sono messi in discussione, hanno messo in rete le loro intuizioni, le loro modalità con cui osservavano il territorio, è diventata sicuramente una proposta più stimolante, alternativa rispetto a quelle che possono essere le normali attività didattiche. Ovvio che naturalmente rimane il primo step questo e su cui bisogna poi lavorare e provare a mettere in piedi percorsi che in un certo qual modo siano più ad ampio raggio, voglio dire che abbiano un minimo di visione prospettica attorno a quello che può essere il modo con cui l'economia civile entri a far parte proprio di un'attività didattica tutto tondo.